Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo video... Allora, in questo video mi presento, mi chiamo Giuseppe, riceputo. Grazie, io sono Enrico Pasquale Pratico. Niente, cosa dire? Ho 15 anni. Ho 22 anni. Vengo... non vengo. Io sono un ragazzo carino, macro sex. I capelli no, non sono neri, però ok, dettagli. Comunque... Sono un ragazzo carino. E quelli ragazzi che mi piacciono a me, mi piacciono biondi, capelli neri, macri, bellissimi, sex. E niente, faccio video su Facebook, lì sono seguito diciamo da 27.000 persone, che è un piccolo traguardo, però... Però è bello essere seguito. Tu mi segui, vieni qua. Vieni qua. Sto cazzo, sto cazzo che io ti... sto cazzo. Tu non mi hai dato la vagina. Diciamolo, diciamolo. Conviene emigrare, conviene emigrare, conviene emigrare. Conviene portare l'uccello nei paesi baltici, nella Lettonia, nell'Estonia, nella Lituania, nella Finlandia, nella Svezia, nella Norvegia. Lì sì che c'è il nostro pane quotidiano. Voglio iniziare questa avventura su YouTube, voglio spostare tutti i video qui, voglio... Fica nel culo, voglio... Voglio la mazza, il cazzo, voglio... Maschioni, stalloni, voglio scopare... Voglio scopare, voglio avere un orgasmo dopo l'altro, 30 orgasmi in uno. Voglio il gelato, e stop. Comunque, ragazzi, spero di farvi divertire. Ma basta, non ce la faccio più! A 200 iscritti, 200... Carico il mio primo video parodia. Non ti perditevi! Lascio il link di Facebook sotto nei commenti. Niente, iscrivetevi, lasciate un mi piace. Uno, uno solo, uno, uno, due, tre, quattro, cinque, so contare, ok? Ce la faccio. Iscrivetevi e niente. 200 iscritti, primo video. Ciao ragazzi! 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 È in cantina! Mi state pigliando per il culo! Ciao ragazzi! Nooooooooo! Nooooooooo! ahhh